Purtroppo, anche nei giorni scorsi, numerosi migranti hanno perso la vita nei loro terribili viaggi. Per tutti questi fratelli e sorelle, prego e invito a pregare. In particolare, mi unisco al Cardinale Schoenborn, che oggi è qui presente, e a tutta la Chiesa in Austria, nella preghiera per le 71 vittime, tra cui quattro bambini, trovate in un camion sull'autostrada Budapest-Vienna. Affidiamo ciascuna di esse alla misericordia di Dio, e a Lui chiediamo di aiutarci a cooperare con efficacia, per impedire questi crimini che offendono l'intera famiglia umana. Grazie a tutti.